Alcuni miti e religioni e alcune celebri figure di seduttori e di femme fatale, da Don Giovanni a Casanova, da Manon a Lulù, ci hanno fornito un'immagine perversa della seduzione. E l'immaginazione collettiva la identifica con l'esplosione della sensualità, della sessualità e del peccato. Dall'opera da tre soldi di Bertolt Precht e Kurt Weill, ballata della schiavitù sessuale.